Al giorno d'oggi ci sono dei mercati che sono totalmente da innovare. Settori in cui si fanno ancora lungo i coda al banco, dove c'è poca trasparenza sui prezzi e dove l'esperienza di acquisto è ferma agli anni 90. Uno di questi settori ancora da innovare è quello di accessori e componenti per imbarcazioni. Qui non abbiamo ancora grandi player come Zara, Ikea o Decathlon che hanno già rivoluzionato interindustria. Eppure parliamo di un mercato europeo da 7 miliardi di fatturato generato. È per questo che assieme ai miei soci abbiamo realizzato iNelson.com. Siamo nati nel 2018 con un e-commerce che oggi conta un catalogo di 55.000 prodotti provenienti da più di 400 brand differenti. Ogni giorno il nostro magazzino evade più di 200 ordini effettuati da più di 35.000 possessori di imbarcazioni che hanno deciso di affidarsi a noi. Grazie alla costante volontà di diventare un punto di riferimento nel nostro settore, nel 2022 abbiamo aperto il nostro primo store fisico, diventando così il primo player nella nostra industria a perseguire una vera e propria strategia omnicanale. L'obiettivo, anche supportato da questa campagna di raccolta, è di avere 9 megastore nel territorio italiano entro il 2025. Siamo un team di 14 persone che nel 2022 intende sviluppare un fatturato di 2,4 milioni di euro a soli 4 anni della fondazione. Il motivo per cui ti racconto tutto questo è che oggi anche tu hai la grande opportunità di prendere parte al cambiamento di un intero settore. Vieni a bordo con noi e investi anche tu nella nostra campagna su Mama Crowd.